Come un'ape che ricorda sempre la strada verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa. Cristina Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura, l'autrice ci parla di quello che le sta più a cuore, la magia delle api e la difesa del loro mondo, una storia di scelte e di legami familiari, di amore e di speranza, tra il fascino di Parigi e quello della Sardegna una ragazza prova ad abbattere le barriere che la dividono dalla vera se stessa. Cristina Caboni dialoga con Francesca Sparu. Buonasera a tutti, benvenuta Cristina in questo posto magico, è bellissimo essere qua con te, io ormai sono un'affezionata presentatrice dei tuoi romanzi, La via del miele. Torniamo a Badulke, che io ogni volta non so pronunciare, dopo la custodia del miele delle api. Raccontaci un po' come mai hai deciso di tornare lì. Buonasera a tutti, anch'io sono veramente felice di essere in questo posto che è meraviglioso, ma anche perché nel mio romanzo, nella via del miele, c'è proprio un cammeo, ecco diciamo così, di uno dei posti in Sardegna che ha forse una delle più profonde spiritualità, ecco, dove si percepiscono delle energie straordinarie che vanno ben oltre quella che è la materialità. E dunque, un po' riconducendomi anche a quello che diceva Rosana prima, sono rimasta colpita dalle sue parole, perché anche lei nel suo romanzo ha parlato appunto di San Salvatore. Questa mi è sembrata davvero una coincidenza straordinaria e dopo magari ne parleremo. La via del miele è una sorta di proseguo della custodia del miele delle api. Qui c'è una donna che lascia a Badulke parte e ha la sua vita e poi una sua nipote che torna in Sardegna. Ma cosa contiene, cosa le lega? L'amore per le api. L'amore per le api che era fortissimo sia nelle protagoniste della custode che in questa nuova storia, che è la via del miele. Ma in realtà è una via di ritorno. Perché scrivere ancora di api. Perché io mi sono resa conto una sera tornando a casa, dopo una giornata in apiario, che avevo ancora qualcosa da raccontare sulle api. che non avevo detto tutto. Perché c'era un mondo immenso. E una di queste realtà era il fatto che sui tetti delle città c'erano gli alveari. E c'erano ancora donne che cantavano per le api. infatti Alice, la protagonista della via del miele, la troviamo inizialmente a Parigi, che ha un apiario sui tetti di Parigi. Però c'è questa particolarità che quando le sta per capitare qualcosa, sempre un'ape si posa sulla sua mano. Quanto c'è di te in questa particolarità? Perché secondo me, con quello che hai appena detto, il fatto che, rientrando dall'appiario, perché sappiamo che tu sei un'apicoltrice, tra l'altro il tuo miele è buonissimo. Io vi dico questo, se assaggiate il miele di Cristina, non comprate nessun altro tipo di miele. Diventate viziati. Questo non è marketing, è pura verità. Quanto c'è in questo delle api che si appoggiano di coincidente tra te, Alice? Allora, io sono privilegiata, nel senso che tra le mie antenate c'era una donna che cantava per le api. Dunque io sono cresciuta con questi racconti. Ho sempre immaginato questa donna che entrava nel suo giardino, allargava le braccia e iniziava a cantare, perché questo mi avevano raccontato. E le api le vorticavano intorno. E lei ci parlava. Aveva questa sorta di intenso dialogo, che era sicuramente, appunto come dicevamo prima, qualcosa di intimo, qualcosa che andava appunto oltre la materialità. Perciò immaginate crescere conoscendo questo tipo di rettaggio, ecco. E poi, una volta che io stessa sono diventata una picoltrice, dunque ho avuto modo di verificare quanto sia intenso il rapporto con questi insetti, che sono secondo me straordinariamente femminili, proprio nel senso della creazione, della famiglia intesa come sciame, dunque come occuparsi di tutti. Ecco, questo mi ha suggestionato, mi ha accompagnato. E quando ho raccontato di una donna che acudiva le api e le aveva sui tetti, lei abitava a Parigi e ce le aveva sui tetti del palazzo dove viveva, tutto ha trovato una connotazione molto precisa. E si è tutto combinato. Non importa quanto tu possa essere straordinariamente moderna, quanto tu sia una donna in carriera, ci sono delle cose che appartengono a una parte di noi che è atavica, che è quasi primordiale. E il legame che si ha con la terra, con la natura e dunque con le api, che le api sono appunto una rappresentanza della natura, proprio forse una delle più grandi, delle più importanti. Ecco, lì il legame si ritrova e si sentono cose diverse. E si ha necessità di trovare l'autenticità della vita. Qui però, secondo me, ci vuole un applauso, perché hai detto una cosa molto importante. Com'è molto importante il messaggio del legame con la natura che tu comunque mandi, diciamo in tutti i tuoi romanzi, però diciamo nella custode del Mire delle Api e soprattutto qua, è molto molto importante. Sì, non è solo importante, è anche qualcosa di necessario. Questo libro si intitola La via del miele, ma in realtà è la via per trovare ciò che rende la vita davvero autentica, ciò che rende tutto, ritrovi il significato delle cose e ritrovi anche il significato della tua vita, perché riesci a discernere quello che non serve da quello che in realtà è ciò che è necessario per essere felici. Dunque non è la via del miele, è la via per la felicità. Esatto. Torniamo un attimo al romanzo. Quindi Alice a un certo punto però si trova costretta, non diciamo perché, a partire da Parigi e andare in Sardegna. E qui in Sardegna si trova davanti a un mondo, perché comunque Abadul, che anche se è un posto di fantasia, è abbastanza simile a tanti posti che noi abbiamo, diciamo, ecco, raccontami un po', perché ovviamente ci sono, sì, ci sono i personaggi della custode, però alcuni, i principali sono, diciamo, sullo sfondo, quelli che erano secondari nella custode diventano improvvisamente quasi protagonisti, per esempio Giuseppe. Raccontaci un po'. Sì, ad un certo punto Alice lascia Parigi e va in Sardegna, viene in Sardegna per cercare qualcosa, qualcosa che lei ha necessità di trovare. Ed è una riscoperta di quelle che erano le sue origini, le sue radici, dal momento stesso in cui lei posa i piedi, la prima volta, quando scende dall'aereo, lei sente già, percepisce già qualcosa, ed è nel vento, negli odori, nei profumi, ed è in quella sorta di emozione che lei prova quando avviene questo ricongiungimento, anche se lei non c'era già stata, lei era comunque qualcuno che discendeva da una donna particolare, speciale, una donna che all'inizio la troviamo in un cerchio, in un cerchio su una spiaggia, intorno a un fuoco, che insieme alle sue sorelle celebra, celebra la sorellanza, l'amicizia, celebra una notte speciale. Quando lei si rende conto di quanto è diversa la vita che ha condotto a Parigi, lei è una donna in carriera, ha veramente qualcosa che la società di oggi ritiene essere indispensabile per il successo di una donna, e invece ad un certo punto si trova in una realtà completamente diversa, con dei tempi diversi, con delle persone che invece pensano tutta ad un'altra cosa, quasi un capovolgimento, e lei dunque lì si rende conto che la realtà che lei ha vissuto a Parigi è un'altra, è diversa, non funziona ad Abadulche, ci sono altri tempi, ci sono altri modi di fare, ci sono necessità differenti, come per esempio quella del dialogo, si parla, è una delle cose che soprattutto, anche se lei è una strangia, straniera, le viene chiesto, è Filla de Guinnessese, e da lì si ha tutto il contatto con quello che era avvenuto prima, e anche in qualche maniera si prepara il presente e il futuro. Appunto, e lì incontra Giuseppe, Giuseppe che nella custode era il cugino di Angelica, aveva un ruolo però secondario, come mai hai deciso di farlo diventare quasi protagonista, quasi per non dire coprotagonista? in realtà la sua figura che io avevo lasciato nella custode era una figura importante, molto forte, era comunque qualcuno che aveva fatto qualcosa di straordinario, inoltre era anche il padre di Anna, la piccola nuova custode, dunque aveva sicuramente un legame molto profondo, è stato bello ritrovarlo, è stato molto bello, perché a differenza di Alice che è un'apicoltrice urbana, e dunque che ha tutto un modo di vedere le cose, la natura, però veramente in un'ottica differente, lui invece è un apicoltore, di quelli che possiamo trovare benissimo qua, di quelli che vivono seguendo il ciclo delle stagioni, di quelli che vivono seguendo le fioriture e dunque vanno in campagna, annusano l'aria per vedere se l'aria è intrisa da quei profumi delle fioriture, lui è un uomo che in qualche maniera può diventare il contatto di cui lei ha necessità per trovare quello che appunto Alice sta cercando. Ascoltami Cristina, noi ci siamo parlate appena, perché io ho presentato il libro, appena è uscito, adesso è passato qualche mese, e tu mi dicevi che avevi un po' paura della risposta dei lettori dopo appunto il successo della custode del Miele delle Api, come hanno reagito invece i tuoi lettori? Poi ti dico come ho reagito io. Ma benissimo, perché comunque l'apicoltura appunto è vasta e varia, c'è veramente tanto da dire e l'apicoltura urbana non è tanto conosciuta, eppure vi posso dire che a Parigi gli apicoltori urbani hanno una loro società che è stata fondata nel 1850, dunque questo modo di allevare le api sui tetti delle città, c'è veramente da tantissimo tempo, e questo anche necessità di recuperare il contatto con la natura, anche se si è in una metropoli, avviene in tutto il mondo, ci sono delle postazioni a Tokyo, ci sono delle postazioni a Londra, a Londra ci sono 3.000 alveari, guardate che 3.000 alveari sui tetti sono veramente tanti, ma ci sono anche tante altre realtà dove intorno a questi alveari che ci sono sui tetti si radunano gruppi di persone, dunque c'è di nuovo la socialità, persone che si uniscono, che vanno a vedere le api, che si occupano del loro benessere. secondo me era qualcosa che forse nella custode mancava, e poi chissà, in realtà l'apicultura è ancora molto vasta, chissà che poi possa ancora raccontarla attraverso un altro romanzo. Ebbè, stiamo aspettando qualcosa che riguardi Anna. Una caratteristica di tutti i tuoi romanzi è che all'inizio di ogni capitolo tu scrivi un po' di curiosità, e in questo romanzo hai scelto di raccontare curiosità dal punto di vista mondiale, diciamo, sulle api e sul miere. Me ne dici due, anzi ce ne dici due per... Allora, in realtà queste sono cose che io a mia volta ho scoperto, perché l'apicultura è veramente legata al territorio. E dunque c'era questo miele che veniva raccolto in Asia, che deriva da un ettare di una pianta particolare, che è in realtà un miele allucinogeno. Questa cosa qui era molto particolare, perché veniva utilizzata in passato dagli sciamani che prendevano il miele e incominciavano a raccontare le cose degli spiriti, insomma, che vedevano. Ma questa questione effettivamente è così, perché questo miele, il nettare di questi fiori contiene una sostanza allucinogena che viene poi trasferita nel miele dalle api. Io non mi posso immaginare le api in che condizioni sono dopo che raccolgono questo nettare. Comunque questa è una delle cose più divertenti che ho appunto scoperto. Invece ce n'è un'altra che mi è cara, ecco. Si tratta di una pittura rupestre che fa parte di un agglomerato di caverne spagnole, dove appunto c'è questa donna, io l'ho riconosciuta come una donna perché le sembianze sono quelle, che sarebbe la prima apicoltrice della storia che è stata ritratta così. Ebbene, negli ultimi studi che sono stati fatti pare che il fatto che sia proprio un'apicoltrice ha delle prove che sono raccontate da chi ha avuto modo di occuparsi di fare questi rilievi. Dunque, un'apicoltrice che saliva su questa scala per raccogliere il miele. Allora, prima ho detto appunto da tua lettrice che secondo me questo libro ha superato anche il primo perché dentro hai messo davvero tanto e si capisce quanto è stato importante per te riprendere in mano questa storia ma anche la titubanza, io questo lo so perché ho la fortuna di esserti amica quindi ne abbiamo parlato di quanto all'inizio è stata è stata sofferta la la genesi però appunto come tutti i libri sofferti poi il risultato è bellissimo. Non si può chiedere il prossimo progetto? Il prossimo progetto uscirà ad ottobre sarà sempre una storia familiare dove ci saranno sempre al centro le donne come diceva prima Rosanna bene, noi siamo donne che raccontano di donne ecco e questa storia però è un po' diversa delle qualche novità ecco più di quello non vi posso dire perché ancora è ancora troppo presto siamo già tutti curiosi torniamo al romanzo c'è anche un altro personaggio maschile che è nella custode era diciamo un po' il personaggio negativo che invece qua ce lo fai vedere sotto un'altra luce umana io non ho mai creduto ai personaggi cattivi per essere cattivi ognuno ha le sue prerogative ognuno ha le sue quello in cui crede e dunque non mi piace vedere come avviene l'evoluzione di un personaggio in questo romanzo si parla di tante cose si parla di maternità non voluta di maternità arrivata si parla anche di file anima no? di quella particolare maternità che invece in Sardegna aveva aveva una grande risonanza una grande forza si parla anche della capacità di amare di amare perché comunque la capacità di amare non ha niente a che vedere con con l'istinto ma è anche molte volte qualcosa che nasce nasce dentro di noi ed è ed è veramente bello vedere come poi si dipanano tutte queste storie tutte queste alleanze qui questo è anche un romanzo che parla di sorellanza di come le api in qualche maniera siano metafora di vita e di come tutto quanto poi si si unisca perciò sì ci sono dei personaggi che avevano delle connotazioni negative nel primo romanzo e che qui ci appaiono forse anche in maniera un po' sorprendente sotto un altro punto di vista e dunque hanno la loro storia da raccontare parliamo della della tua passione qui siamo appunto al festival dell'archeologia io so che tu hai questa passione anche perché una volta a Serri abbiamo fatto un giro enorme al freddo perché dovevamo vedere assolutamente il pozzo sacro quindi mi fa piacere anche perché giustamente è un argomento caro a Anthony e mi fa piacere che tu racconti la tua passione sì io sono assolutamente appassionata di storia e preistoria sarda sono delle cose che probabilmente uno si sente anche così un posto dove può ritrovare le proprie radici quello che è stato quello che viene rappresentato ma poi noi abitiamo in un'isola dove ci sono oltre 7000 nuraghi una roba che è straordinaria con una capacità di costruzioni che probabilmente non hanno nessuno che le può che le può eguagliare abbiamo i pozzi sacri abbiamo la il fatto che l'astronomia era conosciuta e dunque c'è una conoscenza anche così profonda e così ampia io molte volte mi sono immaginata arrivare da queste parti e vedere queste colline ricoperte di queste statue doveva essere uno spettacolo straordinario emozionante cioè per chi ha un briciolo di immaginazione rivederlo ma anche pensare a che cosa doveva sembrare a un visitatore o anche a un a qualcuno che comunque veniva qui con dei motivi poco pacifici vedere questa grandiosità queste opere queste statue e poi prendersi conto cioè per me la Sardegna ha una storia straordinaria ma adesso mi sono ricordata una cosa che vorrei raccontare una delle storie che ho trovato quando appunto facevo le ricerche per questo romanzo è molto particolare perché racconta di una sacerdotessa che era intervenuta durante una battaglia una battaglia che i Sardi stavano perdendo perché il nemico era forte e il nemico era veramente ben equivagiato e lei cosa aveva lei aveva il suo canto e al suo canto risposero le api e le api attaccarono il nemico e il nemico fuggì perché contro le api non poteva fare niente e dunque il popolo sardo vinse la battaglia lei attese richiamò le sue api e ritornò nella foresta da dove era arrivata bellissimo questo racconto l'ultima domanda è le letture di Cristina che Cristina dovete sapere che legge di tutto persino le storie di zombie allora io leggo di tutto non ho mai anche le storie di zombie non ho proprio mai avuto per fortuna per fortuna il pregiudizio letterario dunque leggo assolutamente di tutto è una delle cose diciamo più divertenti per me più un po' più cruente prima del covid erano i post apocalittici poi dopo il covid ho cambiato un po' perché effettivamente vedere che le cose che secondo me erano pura fantasia potessero effettivamente diventare o avvicinarsi in qualche maniera non per gli zombie ma per i virus e roba del genere alla realtà era qualche cosa che mi ha fatto propendere per altri generi fantasy che magari sono un pochino più fantascientifici adesso mi vanno meglio i mondi sconfinati viaggi nel tempo insomma questo tipo di cosa che sono effettivamente meno vicini alla realtà però effettivamente è bello leggere di tutto è bello perché comunque leggendo tante cose molto molto diverse ti rendi conto della ricchezza io adesso vi cito solo La strada di McMorrin che è un romanzo veramente anche quello post apocalittico se vogliamo è che ha dato la possibilità di confrontarci con quelle che sono le paure più grandi di un di ogni essere umano bene io ti ringrazio è stato bellissimo parlare con te in questo questo luogo ancora di più grazie a tutti là ci sono i tuoi libri grazie grazie mille grazie grazie a tante grazie a tante grazie a tante